Benvenuti nel nostro canale. Oggi vi porteremo nel mondo avvincente della promessa, la SOAP opera spagnola che ha catturato l'attenzione di milioni di telespettatori. Siete pronti a scoprire cosa ci riserva la settimana dal 2 al 6 settembre 2024? Restate con noi fino alla fine perché ci saranno colpi di scena che vi lasceranno senza parole. La settimana inizia con un cliffhanger mozzafiato che promette di tenervi incollati allo schermo. Maria, la nostra coraggiosa protagonista, si trova intrappolata in una spirale di terrore e mistero. Dopo giorni di angoscia e incertezze, scopre con orrore di essere stata rapita da Valentin, un uomo la cui ossessione per lei ha superato ogni limite. Ma questo non è solo un semplice rapimento, è un gioco pericoloso, un intrigo che intreccia sentimenti profondi e segreti inconfessabili. Immaginate la scena. Maria, rinchiusa in una grotta oscura e umida, si sente completamente impotente, con le catene che la tengono prigioniera e il cuore che batte forte per la paura. Valentin, il suo rapitore, è un personaggio complesso, un giovane che ha perso la testa per lei e crede di poterla costringere a innamorarsi. La sua mente è un labirinto di emozioni contrastanti dove l'amore si mescola con la follia. Ogni giorno che passa, Maria deve affrontare non solo la sua prigionia fisica, ma anche il tormento psicologico di un uomo disposto a tutto pur di ottenere ciò che desidera. Intanto, all'esterno, i suoi amici e familiari si mobilitano in una frenetica caccia per trovarla, ignari del pericolo che si cela dietro il volto affascinante di Valentin. La tensione cresce mentre i sospetti si intensificano e la verità inizia a emergere come un'ombra incombente. La SOP opera La Promessa si tinge di dramma e suspense, promettendo colpi di scena che lasceranno i telespettatori con il fiato sospeso. Riuscirà Maria a liberarsi dalla morsa di Valentin? E quali segreti oscuri verranno svelati nel corso di questa avvincente trama? Non perdetevi neanche un attimo di questa storia avvincente, dove l'amore e il pericolo si intrecciano in un destino incerto. Leonor, un altro personaggio chiave, sorprende Curro e Martina mentre si baciano, rivelando un segreto che potrebbe cambiare le dinamiche tra i personaggi. Lope, nel frattempo, si dedica a preparare una salsa al pomodoro che conquista Catalina, ma la sua gioia è offuscata dalla preoccupazione per il ritorno di Cavendish. Romulo, turbato dalla scomparsa di Maria, cerca di tornare alla normalità, mentre Simona inizia a sospettare che Valentin sia coinvolto nel rapimento. Rimanete con noi perché questo è solo l'inizio di una settimana piena di tensione e rivelazioni. Il secondo giorno della settimana porta con sé un evento scioccante. Durante un tentativo di fuga, Valentin viene ucciso da una guardia. Prima di morire, rifiuta di rivelare dove si trova Maria, lasciando Iana disperata e in cerca di risposte. Simona, che si sente in colpa per aver creduto alle bugie di Valentin, si rende conto della gravità della situazione. Cruz, stanca del caos, ordina a Pia di trovare una sostituta per Maria. Intanto, Catalina e Pelaio annunciano l'inizio della loro attività di salse, un momento di leggerezza in un contesto così drammatico. Ma cosa accadrà ora che Valentin è fuori dai giochi? Chi salverà Maria? La tensione continua a crescere quando Iana rivela a Curro che Diego, il bambino di Pia, è in realtà figlio del barone dell'Inaia. Questo segreto potrebbe avere ripercussioni enormi per tutti i coinvolti. Pelaio, nel tentativo di proteggere la tenuta, cerca di convincere Cavendish a condurre i suoi affari lontano, ma senza successo. Leonor, furiosa per la relazione tra Curro e Martina, affronta i due, rivelando di conoscere il loro segreto. Nel frattempo, Maria è in grave pericolo, prigioniera senza cibo né acqua, e la situazione si fa sempre più critica. Riuscirà qualcuno a salvarla in tempo? Non perdetevi i prossimi sviluppi! Leonor scopre che la relazione tra Curro e Martina è più seria di quanto pensasse, e questo la fea a sentire tradita. Margarita e Don Lorenzo continuano a indagare su Pelaio, mentre Petra mente a Cruz riguardo a Feliciano. Abel, un altro personaggio chiave, trova un indizio importante sul corpo di Valentin, che potrebbe restringere il campo di ricerca per Maria. Tuttavia, la guardia civile non riesce a ottenere risultati concreti, aumentando la preoccupazione per la sorte della ragazza. La tensione alle stelle, cosa troveranno gli investigatori? Scopritelo con noi! La settimana si conclude con un incontro inaspettato. Durante le ricerche di Maria, Lope incontra Vera, una ragazza in fuga, e le offre rifugio alla promessa. Questo potrebbe cambiare le sorti della storia in modi imprevedibili. Funes fornisce ad Abel alcuni oggetti di Valentin per cercare nuovi indizi, mentre Catalina si scontra con Margarita e Don Lorenzo per il loro atteggiamento verso Pelaio. Il litigio tra. Leonor e Martina destra sospetti tra i membri della tenuta, creando un clima di tensione palpabile. Pia, commossa, implora Feliciano di perdonare Petra, mentre Iana confessa di aver rivelato a Curro la verità su Diego. Come si risolveranno tutte queste tensioni? Non perdetevi il prossimo episodio. In conclusione, la settimana dal 2 al 6 settembre 2024 di La Promessa si preannuncia come un vero e proprio turbinio di emozioni, segreti inconfessabili e colpi di scena mozzafiato. Ogni episodio sarà un viaggio avvincente che ci porterà a scoprire verità nascoste e intrecci inaspettati, capaci di tenere incollati allo schermo anche i fan più scettici. Non perdete l'occasione di farci sapere le vostre teorie e aspettative nei commenti qui sotto. La vostra voce è fondamentale per rendere questa avventura ancora più entusiasmante. Se questo video vi ha colpito, non dimenticate di iscrivervi al nostro canale e attivare la campanella per restare sempre aggiornati su tutte le novità e i retroscena della serie. Grazie di cuore per averci seguito e preparatevi a un nuovo incontro imperdibile nel prossimo video.